Ecco, registro anche. No, manderò domani una nuova mail in cui preavviso anche che ci sarà questa meditazione del 21 dicembre, quindi non lo sapete ancora, sappiate che sarà il 21 dicembre alle 21 appunto, ci sarà Stefano con noi e ci farà una meditazione, un'oretta di ascolto e meditazione, però vi manderemo tutte le informazioni quanto prima. E sì, manderemo una mail in cui ci sono scritti anche i prossimi webinar e poi anche questo, ma poi ne mandiamo anche un'altra più. Il 21, del 2021 alle 21, guarda che Stefano non l'ha fatta apposta, io l'ho accolto, ho detto guarda che anche il solstizio è interessante, no? È vero, è vero, assolutamente, bella questa cosa. Il 21 per, vabbè, nel lavoro con Aura Soma è una splendida bottiglia che è verde e rosa e che si chiama Nuovo Inizio per l'amore, quindi diciamo che ci apre a nuove possibilità e rappresenta l'universo comunque anche, quindi è una bella occasione. Molto interessante, certo. Vedo che si stanno iniziando a collegare, allora io parlo comunque così dopo ti lasciamo, parliamo del tuo libro appunto. Vi dico che questo è il nostro 31esimo webinar, quindi il 31esimo webinar di Filo D'Arianna, un percorso tra salute, speranza e creatività. Sono stati dei webinar molto interessanti. Al 2 sono stati anche con Stefano, vi invito sicuramente ad andare a vedere tutte le registrazioni che sono sul nostro sito, quindi le trovate tranquillamente. Oltretutto in ogni mail che noi mandiamo, in fondo c'è proprio il pulsante con scritto qui vedete le registrazioni, quindi basta che ci cliccate sopra e ci andate direttamente nell'articolo e sono una di seguita all'altra, quindi in ordine di data. Filo D'Arianna appunto va verso la conclusione per questo 2021, quindi finiremo il 14, anzi vabbè continueremo anche il 21, anche se questa è una cosa a parte, ecco. Questa è di Stefano perché è un suo dono in realtà, però vi daremo tutte le informazioni. Noi siamo un'associazione di promozione sociale, io mi chiamo Francesca Miceli, il mio nome d'arte è Lilith, sono la presidente dell'associazione Armonia che è per lo studio e lo sviluppo della persona. Ci siamo dal 1996 e da allora ci occupiamo appunto di prevenzione, prevenzione fin dall'utero e poi anche di stimolare quanto più possibile la creatività dei nostri associati, sempre convinti che corpo, anima, mente siano indissolubilmente legati come il cervello e l'intestino, come Cira racconterà Stefano. Cioè che per contattare la nostra parte spirituale, diciamo immortale, è l'unica possibilità questa di avere tutte queste parti in equilibrio tra di loro. E quindi invitiamo sempre molti esperti nei nostri spazi e in effetti Filo D'Arianna era già stato, diciamo, organizzato una decina d'anni fa con lo stesso titolo, però con tutte conferenze dal vivo. Oggi abbiamo qui appunto di nuovo Stefano e siete adorate questo Stefano Manera perché veramente lo seguite tantissimo. Io mando via i link, mandiamo via i link a mano, quindi per noi è stato veramente molto impegnativo, ma siete veramente, veramente, siete veramente tanti. Stefano oggi ci parla del suo libro Cervello e Intestino, un legame indissolubile. Io ho letto le prime cento pagine, è bellissimo, è molto interessante. E poi dopo sono andata a scartabellare e anche più avanti perché ero molto interessata appunto, vabbè, siccome mio papà ha l'Alzheimer, appunto, all'Alzheimer e quindi era molto, sono molto interessata ad ascoltare quello che ci racconterà Stefano su questo libro. Anche perché ultimamente si parla anche alla televisione, senti delle pubblicità che parlano di microbiota. Infatti ho detto, ah però, vedi che sta iniziando a diventare molto più famoso, ecco. Ovviamente cercando di venderci qualche cosa, naturalmente, però è interessante. Molto. Dimmi Stefano. No, no, ti seguivo, è molto interessante. Poi ovviamente loro trovano degli sbocchi di vendita e quindi ne approfittano, chiaro? Giustamente, insomma. Certo. E non vi ho parlato di Stefano perché pensavo che tutti lo, tutti lo conoscete, Stefano Manera. Sì. È un medico e oltretutto è stato uno dei primi volontari anche a Bergamo, quindi si è offerto volontario per andare all'ospedale di Bergamo nel primo periodo della pandemia, ancora lo scorso anno. Però è anche un professore a contratto presso appunto l'Università di Cusano di Roma e si occupa da tanto tempo appunto di microbiota intestinale e di imbecchiamento. Quindi in realtà il microbiota intestinale è anche importante per l'antiaging appunto. Lui è un medico che si definisce curioso e appassionato di vari aspetti del benessere dell'essere umano ed è sempre stato attratto da una visione olistica, diciamo, che anche per questo che a noi è piaciuto tanto come armonia, perché noi ci occupiamo appunto di una visione olistica dell'uomo. E quindi ha sempre studiato la, diciamo, profondamente le patologie e quindi come ricercare le cause di queste patologie ed è quindi arrivato al microbiota appunto. Non so se ti ho presentato abbastanza bene, non sono una grande giornalista. No, no, va bene, va benissimo. So che poi hai preparato alcune domande che vorrai farmi, no? Sì, 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 certo. Quindi adesso vediamo come te la cambierai. Intanto raccontaci, ecco, sì, tu intanto raccontaci di questo legame cervello-intestino e di che cosa intendi con questo legame indissolubile tra cervello ed intestino. Bene, allora buonasera a tutti, grazie, grazie Francesca, grazie alla tua associazione per questo nuovo invito che ho accolto molto volentieri dopo i due nostri incontri precedenti. E mi fa anche piacere, devo essere sincero, poter concludere insieme a voi questo anno, no? Con questa iniziativa che abbiamo così voluto fare, che vorremmo fare. Allora, deduco che vogliamo iniziare subito non lasciando i famosi cinque minuti accademici, quindi va bene. Allora, sono le 21.05. Va bene, partiamo. Cosa dici? Beh sì, certo, ormai ci siamo e balliamo, no? Ecco. Sì. Sì, 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 va bene, dai. Arriveranno dopo, eventualmente, se si guardano la riferimento. Va benissimo, Francesca, ci mancherebbe altro. Allora, l'unione, tu hai parlato prima dell'unione mente-corpo, no? Spirito-mente-corpo. È un po' quello che ci fa venire in mente proprio questo asse intestino-cervello, dove come intestino possiamo intendere, a me piace intenderlo così, l'ho anche scritto nelle prime pagine del libro, l'intestino è il nostro corpo, mentre il cervello è chiaramente la nostra mente, la parte superiore, tutto quello che riguarda le sfere in un certo senso superiore. E oggi noi sappiamo molto bene come l'intestino, quindi il nostro soma, il nostro corpo, sia collegata con la parte più superiore, la mente, con un legame che è appunto indissolubile, nel senso che l'intestino, che ormai oltretutto abbiamo imparato e stiamo imparando in un certo senso a conoscere come il cervello, il secondo cervello, il cervello enterico, è in grado di condizionare in maniera anche piuttosto importante il nostro comportamento. Dato che noi abbiamo tanti libri ormai, tanti testi che parlano del microbiota intestinale, come hai detto tu, ormai è un argomento che si sente anche nelle pubblicità che passano in televisione, in alcuni casi. E quindi abbiamo tanta letteratura, tanta produzione bibliografica sul tema microbiota, però non abbiamo ancora assolutamente una letteratura sufficiente per quanto riguarda proprio la parte di connessione mente-corpo, quindi connessione intestino-cervello, come l'intestino è in grado di influenzare il nostro comportamento, le nostre abitudini, il nostro modo di, la nostra socialità, il nostro modo di essere. E quindi ho pensato proprio di scrivere questo testo. Ma questo testo origina da un congresso, innanzitutto, tutto ha origine da un congresso a cui ho assistito, diciamo, nel 2019, a metà anno del 2019, dove relazionava il professor Ted Dinan, che tra l'altro ha scritto la prefazione del mio libro, esatto. E successivamente, sempre in quell'anno, è uscito un lavoro molto, molto grosso, un bellissimo lavoro che è una review, cioè un insieme di più articoli che fa un riassunto, una summa, diciamo, degli articoli presenti in letteratura fino a quel momento, una grossa review sulla, appunto, sull'asse intestino-cervello. Non c'era nessun lavoro, non c'era mai stato nessun lavoro simile. Io l'ho letta, è una review molto, molto grossa, perché di solito siamo abituati a review di 20, 30, 40 pagine, quella review supera, arriva quasi a 200 pagine, più 1700 voci bibliografiche. Quindi veramente un testo vero e proprio. Quella review l'ho letta, mi ha colpito e ho detto, ma questo lavoro non può essere ignorato, devo poterlo in qualche modo rendere fruibile per le persone, perché quello era un lavoro scientifico, devo renderlo fruibile per le persone, diciamo, tra virgolette comuni, no? Che vogliono avere un po' più dimestichezza con questo argomento, ma anche un po' per i miei colleghi. E così ho fatto, ho chiesto al professor Dinan, che appunto era autore di quella review imponente, insieme al professor Kryan, entrambi i professori dell'Università di Cork in Irlanda, e il professor Dinan è stato molto molto felice di darmi il suo, diciamo, la sua benedizione, no? La sua benedizione. E quindi gli ho anche chiesto se poteva scrivere, se aveva piacere di scrivere la prefazione, e lui, a differenza di quello, insomma, un po' del comportamento usuale dei nostri professori italiani, che sono molto altezzosi, molto sul loro piedistallo, con una mail molto amichevole, cioè mi ha detto vai tranquillo, sarà per me un piacere. Nel giro di veramente di pochi giorni mi ha mandato il testo della prefazione, no? E quindi è stato veramente un grande onore, perché stiamo parlando di un professore importante, che pubblica, scusate, tolgo questo bing perché è molto fastidioso, ok. E diciamo che è un autore direi tra i più importanti in assoluto per quanto riguarda l'argomento psicobiota. Lo psicobiota, per chi non lo sapesse, è quella parte del microbiota intestinale che ha strette correlazioni appunto con il nostro cervello, quindi che va a modulare attraverso varie vie, varie modalità, proprio anche il nostro comportamento sociale. Ci sei? Sì. Io ci sono. Sì, sì, no, mi sono interrotto perché pensavo volessi chiedermi qualcosa, però no, io vado avanti. Stavo cliccando lì, no, volevo chiederti la differenza tra microbiota e microbioma e altre cose che c'erano scritte, ma no, no, no. Allora, ma chiediamola perché è una domanda molto pertinente invece, perché, allora, innanzitutto questo qua è un consesso di profani, no? Certo, assolutamente. Non è un dibattito scientifico, né tantomeno una conferenza scientifica, vista anche l'ora. Allora, microbiota. Microbiota intestinale, partiamo dal concetto di microbiota più generico. Microbiota è tutto quell'insieme di microorganismi che vivono dentro o fuori di noi. Quindi il microbiota è costituito da batteri, da virus, da funghi, da lieviti, parassiti. Abbiamo tantissimi microbioti nel nostro corpo, quindi abbiamo il microbiota intestinale, che è forse il più famoso, ma abbiamo anche il microbiota dei polmoni, abbiamo il microbiota dell'apparato urogenitale, abbiamo il microbiota delle mucose, della pelle, molto importante, eccetera, eccetera, eccetera. A noi interessa in questo ambito, più nello specifico, il microbiota intestinale, anche se ormai sappiamo che il microbiota intestinale ha delle connessioni strettissime, per esempio, con il microbiota polmonare. E il microbiota polmonare, a sua volta, ha delle connessioni anche con il nostro cervello. Quindi si può parlare, abbiamo iniziato in realtà da molto poco, a parlare di asse, polmone, cervello. Così come esiste un asse intestino-polmone. Perché siamo tutti in rete, non si scappa da questo, no? Siamo un macro-organismo in rete. Tant'è vero che il microbiota, proprio nel 2016, è stato elevato come organo. È un organo vero e proprio. Quindi quando parliamo di microbiota intestinale, parliamo di un organo vero e proprio, come potremmo parlare del cuore, come potremmo parlare del polmone, del pancreas, eccetera, eccetera. E come questi organi, noi senza microbiota non potremmo vivere. Non esiste la possibilità di vita senza microbiota. Quindi microbiota è l'insieme di questi micro-organismi. All'interno del microbiota intestinale c'è una sottopopolazione di micro-organismi che si chiama psico-biota, cioè questi micro-organismi batterici, per l'esattezza, che vanno a, diciamo, interferire nel bene e nel male con il funzionamento del nostro sistema nervoso centrale. Questo è molto importante, perché non è un caso che questo succeda. Così come non è un caso che esista il microbiota, non è un caso che in seno al microbiota intestinale esista uno psico-biota, cioè degli organismi ancora più selettivi che governano, in un certo senso, che condizionano il nostro sistema nervoso centrale. Perché da un punto di vista evolutivo, questo dato è evidente. Cioè i batteri sono talmente tanto inseriti nel nostro essere, così come ci conosciamo, che hanno un ruolo determinante anche nel condizionare i nostri comportamenti. È fondamentale questo. Allora, il microbiota intestinale, come penso immaginiamo tutti, presenta anche un codice genetico proprio. E il codice genetico, così come il nostro codice genetico si chiama genoma, il codice genetico del microbiota si chiama microbioma. Quindi microbiota e microbioma non sono assolutamente sinonimi, anche se a volte si usano in maniera erronea. E il microbioma a sua volta codifica per tutta una serie di sostanze, metaboliche, chiaramente, che prende nome di metaboloma. Quindi il microbiota ha un microbioma e microbioma codifica per un metaboloma. Cioè tutti i metaboliti attivi che sono prodotti dal nostro microbiota e che interagiscono in un modo o in un altro più o meno con noi e ci permettono la vita. E sono molto più evoluti oltretutto, anche perché ci sono da molto più tempo, immagino. Sono molto più evoluti sotto certi aspetti di noi. Sono sicuramente molto più resistenti di noi. Su questo non c'è dubbio. Dato che noi abbiamo un po' questo vezzo, gli esseri umani hanno un po' questo vezzo, innanzitutto di considerarsi al centro dell'universo e quindi di elevarsi a massima importanza dell'intero creato, in realtà e soprattutto di considerare sempre un dualismo, un dualismo anche morale, no? Quindi il buono e il cattivo. Quindi ci sono batteri buoni e batteri cattivi. E quindi ha dato il buono e dato il cattivo che ci sia in atto una guerra nel mondo naturale, no? La guerra tra batteri. In realtà non esiste nella maniera assoluta il buono e il cattivo, quindi non esistono batteri buoni e batteri cattivi, esistono semplicemente dei batteri. Ognuno fa la propria vita a spese di altri, come la savana, no? Come la giungla, cioè il leone non è più cattivo della gazzella o più buono rispetto al coccodrillo. Ognuno fa il suo. Purtroppo a volte qualcuno viene mangiato e così è. Se non fosse così sarebbe un guaio. Lo stesso vale per i nostri batteri. A volte le scricchi a colli prende sopravvento su bifido batterio perché così va la vita anche nel nostro intestino che diventa un ecosistema, no? Quindi il nostro intestino diventa l'ecosistema in cui vive il microbioma, il microbiota, scusate, in cui prolifera il microbiota. E noi siamo la biosfera. Quindi il nostro intestino è l'ecosistema e noi come corpo in toto siamo la biosfera. E la scomparsa di una specie batterica nei confronti di un'altra, proprio perché in natura non è presente alcuna guerra, la scomparsa di una specie batterica ai danni di un'altra determina uno sconvolgimento vero e proprio dell'ecosistema e quindi della biosfera. Tutto quello che noi possiamo vedere nel macro noi lo possiamo rivedere anche nel micro. E questo è un grosso problema. È un grosso problema perché quando andiamo ad alterare in un modo o in un altro il microbiota intestinale con delle cure, ad esempio, antibiotici, ad esempio, o con un'alimentazione scorretta, vediamo proprio che può capitare questo, cioè che si sconvolge l'ecosistema, portando a tutta una serie di conseguenze anche patologiche non indifferenti. Quindi anche questa interiazione tra microbiota e sistema immunitario, no? Che è importante. Diciamo che è fondamentale. Diciamo che è fondamentale. Allora, perché dato che, come ho detto all'inizio, il microbiota è un vero e proprio organo, ormai viene considerato come vero e proprio organo, tanto è vero che si parla anche di trapianto del microbiota nei casi più estremi, diciamo, è chiaro che questo organo, questo è un articolo che comparve nel 2016 a firma dell'autore Pacelli, che proprio disse che il microbiota è un organo virtuale, ausiliario. E qualcuno conoscerà l'apnei. Sì. La psico-neuro-endocrino-immunologia. Ok, benissimo. L'apnei è una evoluzione della psicosomatica. Ok? Quindi una volta si vedeva che alcune condizioni psichiche si potevano riversare sul corpo e viceversa. Freud fu un grande studioso osservatore di tutto questo e inventò, diciamo, quella che è stata la psicosomatica, poi che si era affinata, evoluta, con Reich, poi con Lowen e quant'altro, e tutti questi grandi scienziati e filosofi. E un'evoluzione ulteriore della psicosomatica è la psico-neuro-endocrino-immunologia, dove la mente, la psiche, che è la P, l'apnei, interagisce, non in maniera unità, cioè non è al vertice di una piramide, ma sta alla pari con il sistema immunitario, con il sistema endocrino, psico-neuro e col sistema nervoso. E questi quattro sistemi interagiscono tra di loro, interferendo tra di loro, modificando il loro funzionamento, capisci? Sì, sì, certo. Allora, il microbiota intestinale, negli ultimi anni, parliamo dal 2009 in avanti, quindi negli ultimi dieci anni, si è visto proprio in virtù del fatto che un organo che entra con tutti gli onori del caso nel sistema PNEI. Quindi non possiamo più assolutamente parlare solo di PNEI. Ormai parlare solo di PNEI è desueto, non è più attuale. Bisogna parlare di PNEI, psico-neuro-endocrino-immunologia e microbiota. Perché il microbiota, e questo ormai lo sappiamo da N studi presenti, sono più di 20.000 gli studi presenti attualmente su PubMed, il microbiota è in grado di influenzare la mente, asse, intestino, cervello, che è poi l'argomento del libro, ma è anche in grado di influenzare il sistema immunitario, come ho detto prima, il sistema endocrino e il sistema nervoso. Certo. Quindi quando dici che l'essere umano è un ecosistema ampio, che include anche molti altri esseri viventi, in realtà è ancora più ampia questa affermazione. Cioè in che senso dici? In questo senso? Beh, in questo senso già dice molto, nel senso che noi, guarda, il microbiota è un organo talmente evoluto, talmente raffinato, che include un numero di circa 10 alla tredicesima, 10 alla quattordicesima batteri, che è un numero molto, molto elevato. Ok? Un numero molto elevato. Considera il fatto anche che il nostro corpo è costituito, ovviamente sono stime, da un numero di 10 alla 13 cellule. Quindi il numero dei batteri presenti nel nostro intestino è pari, se non appena superiore, al numero di cellule che costituisce il nostro corpo. Ma non ci sono solo i batteri, perché ci sono anche i funghi, perché nel nostro intestino fa parte del microbiota la famosa o famigerata, a seconda delle occasioni, candida e altri funghetti. Ci sono dei parassiti e ci sono i virus. Nei prossimi anni noi sentiremo parlare tantissimo di quello che si chiama il viroma, cioè la popolazione virale presente nel nostro intestino che pare avere un ruolo estremamente importante, a sua volta, nel condizionare il funzionamento dei batteri. Ah, sono loro i capi. Sono loro i capi in un certo senso sì, perché riproducendosi, il virus ha questa capacità di inoculare, diciamo, una parte del codice genetico di questa forma, diciamo che non è una vera e propria forma di vita, perché ne mancano tutta una serie di caratteristiche per essere una forma di vita autonoma, diciamo di questa struttura biologica, che è il virus, inoculare il suo codice genetico all'interno della cellula batterica, ma questo lo fa anche con le nostre cellule, sfruttando il DNA o il RNA batterico, in questo caso, per duplicarsi e per, come si dice, continuare la propria sopravvivenza. Ma facendo questo, proprio andando a inserire delle parti di codice genetico all'interno del batterio, del codice genetico batterico, è grado anche di modificarlo. E quindi, sfruttando questa cosa, potrebbe essere anche utile nei tumori, in un certo senso. Cioè, potrebbe aiutarci. Adesso non so, è una cosa... In che senso? Nel senso che questa cosa potrebbe fargli venire i tumori, perché sappiamo che ci sono molti virus oncogenetici. Sì, però potrebbe essere questo, intendo dire che magari potrebbero essere loro la causa, però in futuro magari si potrebbe anche utilizzare in qualche modo il virus per combatterli, no? Cioè, intendo dire, quando saremo in grado di... Assolutamente sì. Ed è proprio quello che si sta facendo in questi... in questo ultimo periodo con le tanto criticate, sotto certi aspetti, terapie geniche. Quindi, è proprio questo, la nuova frontiera della farmacologia è proprio l'utilizzo di, come si dice, farmaci genetici. quindi che utilizzano proprio la possibilità di utilizzare dei vettori virali per poter andare a lavorare direttamente sul genoma dell'ospite, quindi genoma umano in questo caso. In questo caso, per far produrre, ad esempio, la proteina, come nel caso dei bacini ARNA. Però abbiamo un sacco, ormai la tecnologia farmaceutica si sta portando moltissimo in questa direzione. però questo è un altro argomento che esula chiaramente dal nostro discorso di questa sera. Però la tua obiezione, la tua considerazione è assolutamente giusta perché potrebbe essere il futuro proprio della medicina sotto certi aspetti. Sotto altri, è un futuro che può essere veramente molto insidioso, molto pericoloso. Sì, certo. Come sempre bisogna... Come sempre. Mettere le mani sul DNA e insomma, non è uno scherzo. Bisogna stare davvero molto, molto attenti. Vedremo cosa succederà. I prossimi anni saranno rivelatori sotto certi aspetti. Chi lo può sapere? Ad ogni modo, quello che sicuramente è importante considerare, proprio nella... quella che è stata la tua domanda iniziale, dell'ecosistema. L'ecosistema è quindi molto complesso, perché noi abbiamo le nostre cellule che ci costituiscono e che ci identificano, ma abbiamo anche questi altri microrganismi che in realtà svolgono un ruolo determinante per la nostra sopravvivenza, per la nostra funzione biologica, per la nostra sopravvivenza. Senza microbiota intestinale si è stimato che noi sicuramente ci ammaleremmo, e su questo non ci sono dubbi, e al 90%, molto molto probabilmente, moriremmo entro cinque anni dalla nostra nascita. Quindi non avremo possibilità di sopravvivenza senza microbiota intestinale. Ho letto di questo bambino bolla che aveva delle difficoltà in effetti, non so se poi è morto. Beh, il bambino bolla sì, che aveva delle grandi, grosse difficoltà del sistema immunitario. Sì, sì. Sì, assolutamente sì, no, no, poi è sopravvissuto anche se comunque ha condotto una vita molto difficile. Molto, molto difficile. Sì, assolutamente. Considera che il microbiota intestinale, ho scritto anche un articolo recentissimo che potete trovare sul blog, è fondamentale appunto, come hai detto tu, per lo sviluppo del nostro sistema immunitario. per lo sviluppo. Ma anche per la socialità, no? Anche per la socialità, certo, assolutamente sì. Quello è un aspetto che fa parte proprio dello psicobiota. Per quanto riguarda il sistema immunitario, sappiamo ormai senza dubbi, insomma, che il microbiota intestinale è proprio quel, diciamo, quel tramite che è in grado di formarlo. senza microbiota intestinale noi abbiamo un sistema immunitario del tutto incompetente. E questo è un grosso problema evidentemente, no? Anche per la sopravvivenza. Ma il microbiota è in grado di condizionare il nostro, il nostro, diciamo, comportamento sociale, la nostra socialità. Ci sono degli bellissimi articoli appunto come il microbiota nel nuovo, nel nuovo panorama del, del behavior, cioè del comportamento come il microbiota può aiutare gli psichiatri, articoli scritti sempre da Dina Necrayan, come lo psicobiota è in realtà la nuova frontiera della psico-neurologia, di psichiatria e neurologia. Insomma, ormai questo aspetto è determinante. La simbiosi del resto tra microbiota e essere umano, non solo perché tutti gli animali hanno il loro microbiota, no? Quindi la simbiosi nel panorama evolutivo è talmente profonda perché il microbiota c'è da sempre, da quando l'uomo è apparso sulla terra, sostanzialmente, è talmente profonda, talmente radicata che i batteri è normale, è ovvio quasi, è logico, che condizioni nel nostro comportamento perché dal nostro comportamento ne poi scatturisce anche la loro sopravvivenza. Quindi il tanto mangiare tanto zucchero ci porta ad avere dei batteri che sono lì tutti famelici e desiderosi che però non sono così così buoni questi batteri che si cibano di zuccheri. Come mai sei andata subito allo zucchero? Perché sono interessata a questa cosa nello zucchero. Sei un po' golosa sì visto visto no ma poi perché sono andata a leggere che oltretutto il diabete di tipo 2 ho detto accidenti è anche quello che ha più persone che poi possono avere l'Alzheimer cioè che sembrano assolutamente sì ho detto accidenti il mio papà ha il diabete di tipo 2 e poi l'Alzheimer quindi ho detto è proprio esattamente così ok meno male che allora non mi hai colto in castagna su dicendo l'eccezione che confermare invece è proprio così è così è così quindi ho detto accidenti dopo vado a vedermi anche gli altri però gli altri le altre malattie però era molto interessante insomma quindi come si può anche sulla prevenzione di queste malattie no? Francesca sì sì scusami è diverso beh allora puoi prevenire allora tu puoi prevenire possiamo lavorare di prevenzione assolutamente sì possiamo perché poi non dimentichiamoci un altro fattore assolutamente importante di non dare un peso eccessivo un'importanza eccessiva al microbiota intestinale o meglio il microbiota intestinale è fondamentale però dobbiamo anche in questo caso come tutte le cose della nostra vita metterlo in una in una dimensione specifica no? quindi oltre al microbiota abbiamo la nostra predisposizione le nostre radici individuali che sono estremamente importanti se mancano le radici di una malattia quella malattia non si verificherà mai quindi noi potremmo anche mangiare da schifo per tutta la vita però siamo fortunati ma fortunati morire a 90 anni senza grandi problemi ok oppure mangiare bene per tutta una vita e poi avere purtroppo un bel giorno una diagnosi in fausta non c'è ombra di dubbio che sia così allora tutto va messo nelle corrette dimensioni nelle corrette appunto dimensioni e allora batteri e zuccheri lo zucchero è uno dei alimenti dei nutrienti in un certo senso più devastanti per noi perché lo zucchero innanzitutto è un grande pro-infiammatorio lo zucchero in generale gli zuccheri in generale sono dei pro-infiammatori e seleziona lo zucchero dei batteri specifici cioè noi più zucchero assumiamo e più questi batteri si selezionano cioè rinforzano io ricordo tanti tanti anni fa ma poi in realtà non tanti anni fa perché l'ho rivisto molto recettivamente perché ho dei bambini piccoli c'era un cartone animato che si chiamava siamo fatti così non so se te lo ricordi no peccato vai a vedere qualche puntatina siamo fatti così ma di che epoca so beh oddio è epoca adesso 40 anni fa ok circa 30-40 anni fa c'erano questi e faceva vedere il funzionamento del nostro corpo umano ah sì ho capito con i globlirossi piccolini cioè una cosa molto carina a me piaceva molto e c'erano questi batteri mi ricordo i batteri delle carie dei denti che si nutrivano di zucchero sì bravissimo un martello arrivavano questi questi sacchi di zucchero loro erano tutti emaciati quando non c'era zucchero no poi arrivavano improvvisamente questi sacchi di zucchero e loro si facevano come gli anabolizzanti dei dei delle palestre no si diventavano tutti grossi e facevano dei buchi nei denti meravigliosi ecco in un certo senso è così noi introduciamo zuccheri questi batteri si selezionano ne hanno sempre più bisogno non considerando anche il fatto che lo zucchero bianco lo zucchero in generale scusami stimola gli stessi centri del piacere della cocaina stessi centri potalamici che stimola la cocaina quindi è facile capire come lo zucchero generi dipendenza più ne mangiamo e più ne vogliamo mangiare lo stesso succede similmente per il glutine per la casina del latte perché poi vengono convertiti in casio morfine e gluteo morfine e creano dipendenza ma lo zucchero poi nutre i batteri questi batteri quando non hanno zucchero si lamentano ma non possono lamentarsi dicendocelo urlando possono lamentarsi inviando producendo attraverso il microbioma famoso dei metaboliti che ci fanno sentire il bisogno cioè gli batteri ci dicono abbiamo bisogno di zucchero quindi ti produciamo una serie di metaboliti che vanno in circolo e quindi vanno a livello del nostro sistema nervo centrale assente il testino cervello e il nostro cervello dice oh che voglia di mangiarmi una fetta di saccher che ho o una fetta di pandoro con del mascarpone ecco per rimanere in tema natalizio e tutto e vai in frigorino vai in cucina e ti fai in quella bella fettona e poi ti vengono i sensi di colpa però nel frattempo il tuo microbiota è molto felice e continua a svilupparsi e lo zucchero produce poi infiammazione perché un microbiota che si altera col tempo chiaramente va determina quella che è la disbiosi intestinale cioè la perdita dell'equilibrio e la disbiosi intestinale genera infiammazione l'infiammazione a lungo insomma a lungo andare può generare alcune patologie anche autoimmuni non è il caso del diabete di tipo 2 però ma anche il diabete di tipo 2 il diabete di tipo 2 è figlio di una disbiosi intestinale che si protrae nel tempo studi recenti hanno dimostrato che la disbiosi intestinale presente in molti pazienti affetti da diabete di tipo 2 con l'età con il tempo sviluppa può sviluppare una delle patologie neurodegenerative tra cui appunto l'alzheimer perché la disbiosi cosa fa? genera infiammazione l'infiammazione genera permeabilità intestinale cioè il nostro epitelio la nostra mucosa intestinale anziché essere bella chiusa pian pianino in virtù dell'infiammazione si permeabilizza diventa la cosiddetta leaky gut l'infiammazione sistemica genera anche permeabilità della barriera ematoencefalica cioè quella barriera anatomica che separa il cervello dal resto dal sangue se c'è permeabilità si attiva il meccanismo della neuroinfiammazione che nel bambino è molto pericoloso perché il bambino che ha un cervello in formazione determina ritardi o anche gravi patologie del neurosviluppo che stiamo vedendo negli ultimi anni tante l'autismo la DHD la discografia la discalculia e tutte le dis che ci sono al giorno d'oggi nell'adulto che ha un cervello si presume formato succede che ci sono invece le patologie neurodegenerative Parkinson Alzheimer e compagnia cantante quindi sono patologie che possono essere molto correlate tra loro tant'è vero che il diabete mellito di tipo 2 è una patologia che può regredire molto bene molto molto bene con l'alimentazione certo avevo letto qualcosa anche tipo che c'era un herpes da qualche parte cioè che hanno trovato nei malati di Alzheimer dopo ovviamente che c'era questo virus dell'herpes nel cervello proprio ah beh allora questa è la cosiddetta multifattorialità nel momento in cui noi abbiamo un terreno infiammato abbiamo la possibilità che anche virus possano maggiormente infettarci questo questo è chiaro nel momento in cui abbiamo un terreno infiammato abbiamo anche un sistema immunitario meno competente brava compromesso meno competente e quindi una facilità all'infezione virale sappiamo che ci sono ad esempio l'herpes classico virus lento uno dei vari virus lenti insieme alle Epstein-Barr mononucleosi citomegalovirus eccetera virus lento perché rimane nel nostro rimane da tendere tutta la vita cioè una volta che noi lo prendiamo rimane nel nostro sistema il virus nel sistema nervoso l'herpes l'herpes scusate l'Epstein-Barr rimane nel sistema linfatico così come citomegalovirus rimangono lì sono vengono anche chiamati inneschi infettivi perché loro lavorio in sordina cioè non c'è una vera e propria malattia conclamata no? però è sempre lì c'è sempre questo virus che lavora un pochino può essere da innesco infettivo per altre patologie e quindi questo nella multifattorialità dell'Alzheimer è stato visto che c'è anche lo zampino di questi virus che si reattivano e che quindi fanno un lavoro diciamo cronico all'interno del sistema nervoso centrale quindi però non soltanto alimentazione ma anche stile di vita insomma bisogna lavorare su tanti fronti per prevenire e per aiutare il microbiota beh bisogna sempre lavorare ovviamente su più fronti così come c'è nella patologia una multifattorialità sempre dobbiamo considerare che è fondamentale il discorso del lavoro su più fronti come hai detto tu allora l'alimentazione che rientra nel grande calderone diciamo dello stile di vita in greco lo stile di vita è dieta la dieta non è quello che mangiamo poi noi l'abbiamo intesa in quel modo lì la dieta è lo stile di vita quindi noi siamo costantemente a dieta perché tutti noi abbiamo un nostro stile di vita quindi tutti noi abbiamo una dieta è ossimorico no? ok mentre noi dobbiamo cambiare sicuramente non tutti ma in buona parte lo stile alimentare alimentazione ma dobbiamo fare degli interventi anche quelli che sono le nostre abitudini magari meno a cui diamo meno importanza il sonno quanto è importante il sonno il sonno è determinante e sempre di più per via della connessione per via del lavoro perché torniamo a casa la sera poi dobbiamo fare ancora 8000 cose eccetera eccetera sacrifichiamo una parte che è fondamentale che è il nostro sonno il sonno al di là di toglierci la stanchezza ma il sonno ha delle come possiamo dire dei ruoli fisiologici fondamentali fondamentali chiaramente ci rigenera ci rigenera e basta di pensare che nel sonno grazie anche al sonno si spegne tutta l'attività del cortisolo e quindi si spegne prima di tutto l'insulina poi il cortisolo quindi abbiamo un abbassamento importante dello stato di allerta e abbiamo quindi una rigenerazione da questo punto di vista abbiamo una ripristino abbiamo la possibilità del ritmo circadiano e quindi della della veglia del sonno l'alterazione la scusa l'alternanza dell'attività parasimpatica e orto simpatica il nervo vago che si attiva che si spegne eccetera in teoria polivagale e quant'altro ma nel sonno per esempio c'è la produzione del GH che è l'ormone della crescita l'ormone della crescita il bambino nel sonno cresce in lunghezza l'adulto che non cresce più si rigenera quindi nel sonno si produce il GH e c'è di notte la rigenerazione cellulare se noi non dormiamo a sufficienza questo GH non ha il tempo di essere prodotto oltre a rimanere attivo il cortisolo e quindi è un guaio cioè per tutti non solo per i giovani cioè per tutti tutti noi ci rigeneriamo no? poi andando avanti con l'età un po' più lentamente però la rigenerazione è fondamentale tutti noi considera Francesca che le tue cellule un paio di mesi fa erano diverse erano tutte diverse pensa a te che meraviglia che siamo esatto tranne i neuroni tranne i neuroni gli altri sono cambiate tutte cellule muscolari le cellule del fegato tutte la pelle eppure tu sei rimasta la stessa che ho visto un mese fa no? anche se non è vero perché in realtà noi cambiamo continuamente però certo sì sì però insomma tutti i detti invece quanto quanto durano quanto si cambiano i neuroni durano per quanto dura la tua vita ok quindi quelli non li rigeneriamo i neuroni non li rigeneri mai i neuroni iniziano a formarsi nell'embriogenesi si nasce con un numero enorme di neuroni il neonato nasce con un numero enorme di neuroni e inizia subito a perderli iniziano subito a morire ma ne abbiamo talmente tanti non è che muoiono a manciate però ne muoiono iniziano a morire subito quindi appena si nasce già c'è la morte pian pianino si riduce sempre più il numero di neuroni ma cosa succede che si modifica la neuroplasticità cioè le sinapsi cioè le connessioni neuronali continuano a modificarsi per tutta la vita motivo per cui tu sei in grado di imparare tutti i giorni per cui sei in grado di fare esperienze per cui sei in grado di avere memoria perché altrimenti ciao no ok hai sempre meno neuroni e dovremmo diventare dei perfetti dei perfetti come possiamo dire ma delle perfette macchine non funzionanti adeguatamente in realtà non è assolutamente così quindi è la relazione in realtà la cosa fondamentale sono le relazioni quelle che danno di più e quindi la connessione questo sì perché noi essendo una macchina ecco non mi piace parlare di macchina perché è la visione meccanicista dell'uomo ma siamo una struttura biologica ecco in rete come tutti gli esseri viventi vegetali e animali siamo tutti in rete e questo è molto molto importante questo è il problema delle grandi metropoli delle grandi città dove l'uomo perde questa sua possibilità di rimanere in rete perché c'è l'individualismo sfrenato della città ma anche la perdita di connessione con la natura certo questo è un grosso problema quindi quello che è molto importante è proprio questo aspetto allora cambiano tutte le nostre cellule tutte 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 tranne i neuroni che tu mi chiedi quanto durano quanto dura la tua vita poi pian pianino un po' vanno via muoiono però quelli che rimangono sono lì da quando sei nata sino al giorno in cui noi non ci saremo più cambiano le connessioni tra i neuroni che questo è molto molto importante la plasticità tanto è vero che il futuro cibernetico è quello di dare alle nuove macchine la possibilità delle reti neurali non so se ne hai mai sentito parlare cioè questa capacità di autogenerarsi quindi sarà un delirio se mai le faranno se mai le faranno insomma e un'altra cosa che cambia sono le cellule che sorreggono la struttura dei neuroni cioè la cosiddetta i cosiddetti astrociti la struttura della glia la glia che è il connettivo in un certo senso presente nel sistema nervoso centrale che è la sede della neuroinfiammazione è la glia che si infiamma ok che quindi dà vita tipo alle varie malattie di cui abbiamo parlato le varie malattie neurodegenerative ma può dare vita anche ad altre forme tipo la la depressione l'ansia l'insonnia le turbe del comportamento non necessariamente le malattie più gravi quindi il microbioma il microbiota scusa può andare su questa glia quindi dovrebbe essere assolutamente sì sì perché la disbiosi intestinale la disbiosi intestinale generando infiammazione genera infiammazione della glia quindi della neuroinfiammazione e quindi l'alterazione appunto del comportamento della socialità eccetera eccetera ma il microbiota intestinale e parliamo quindi più nello specifico dello psicobiota dialoga con il sistema nervoso centrale col cervello a sua volta il cervello dialoga con il microbiota con l'intestino attraverso vie bidirezionali ascendenti e discendenti sono molto complicate e interagiscono tra di loro diciamo che le vie possono essere per quanto riguarda l'aspetto discendente scusa ascendente quattro che sono la via nervosa prevalentemente nervovago la via delle citochine prodotte dal nostro sistema immunitario dell'intestino la via dei prodotti metabolici batterici che sono gli acidi grassi a corta catena prodotti dai batteri stessi quindi l'acido butirico l'acido propionico l'acido lattico l'acido acetico e poi abbiamo la via dei neurotrasmettitori prodotta prodotti scusami dai batteri stessi perché i batteri producono neurotrasmettitori dopamina serotonina esattamente come i nostri neuroni ma pensa a te ma pensa allora è appunto ma stavo pensando ai cinesi a vasoconcezione vasogovernatore ah sì scusami a questi no ma a queste a queste non so perché mi è venuto un flash beh perché è qualcosa che loro hanno visto cioè questa beh allora certo certo nelle prime pagine del libro io parlo di Ippocrate le prime pagine del libro parlo di Ippocrate e la medicina Ippocratica la medicina diciamo tradizionale che poi sia occidentale quindi la medicina greca Ippocrate di Kos e via eccetera eccetera che sia la medicina orientale la medicina tradizionale cinese o la medicina ayurvedica sempre considerato sempre considerato ma anche quella in realtà dei nativi americani insomma queste medicine tradizionali hanno sempre considerato la connessione mente corpo assolutamente hanno sempre considerato l'unione di questi due già la stretta connessione di questi due elementi uno influenza l'altro no vaso governatore vaso concezione la medicina tradizionale cinese esattamente questo poi è chiaro che loro non avevano la conoscenza scientifica del microbiota del nervo vago eccetera eccetera però osservando non solo osservando perché poi l'agopuntura è molto più che osservazione sostanzialmente avevano capito molto bene questo discorso il prana pranayaman per esattezza quindi il fluire energetico lungo i chakra è questo è questo non ci dobbiamo assolutamente forse io mi stupisco ancora a me piace stupirmi queste cose mi stupiscono ma è uno stupore di wow che meraviglia uno stupore di meraviglia non uno stupore che dice caspita queste cose qua non le sapevamo proprio è uno stupore differente no e quindi questo è molto importante noi poi la nostra medicina la medicina moderna ha dimenticato queste connessioni la medicina con cartesio da cartesio in avanti purtroppo la medicina riduzionistica ha totalmente dimenticato l'aspetto invece umanistico l'aspetto dell'insieme no e questo perché perché sotto un certo punto di vista è anche normale è naturale pensarlo cioè ci sono talmente tante nozioni al giorno d'oggi in ambito scientifico in ambito medico e non solo che è impossibile umanamente impossibile poterle mettere insieme tutte nessuno nessuno è in grado di farlo c'è talmente tanta roba che ci vorrebbe chi lo sa chi ci vorrebbe un genio assoluto un cervellone pazzesco quindi per l'uomo è assolutamente più facile smembrare e considerare le parti però questo è un problema indubbiamente e la quindi su che altre malattie si può intervenire lavorando con il microbiota beh allora il microbiota può essere alterato da quindi disbiosi che è il contrario di eubiosi eubiosi e equilibrio del microbiota disbiosi e disequilibrio del microbiota la disbiosi intestinale può essere data da veramente tantissimi fattori fattori genetici fattori alimentari lo stress e con stress si intende tutto ciò che può perturbare un equilibrio abitudini l'abuso scusa di farmaci e l'inquinamento assolutamente come si dice l'inquinamento ambientale assolutamente sì chimico elettromagnetico tutto può determinare questo perché altera un equilibrio l'abuso di sostanze per esempio il fumo l'alcol le droghe insomma vediamo che abbiamo tantissimi fattori che possono realmente interferire col microbiota intestinale tantissimi e il microbiota intestinale che è resiliente fino a un certo punto poi a un certo punto dice anche basta si selezionano questi questi ceppi e si va incontro al disequilibrio il disequilibrio è in grado di ovviamente sempre determinando quella leaky gut il microbiota disbiosi porta a una leaky gut syndrome la sindrome dell'intestino permeabile e la famosa la famigerata meglio dire infiammazione di basso infiammazione cronica di basso grado la low grade inflammation e l'infiammazione cronica di basso grado colpisce a pioggia come si suol dire come direbbero a Roma do coi ce l'abbiamo tutti sì un po' ce l'abbiamo tutti e poi dipende proprio quello che dicevo prima dalle nostre radici cioè dalle nostre da come siamo in un certo senso programmati quindi qua entra anche in ballo il discorso della nostra genetica entrano in ballo tutte queste forme che abbiamo ereditato ovviamente dai nostri genitori dai nonni e quant'altro la nostra predisposizione individuale e l'infiammazione puoi capire che può andare a va generalmente a colpire una parte più debole nozioni già note a medicina tradizionale cinese c'è la parte debole che esprime la forma patologica la forza ammalante e la forza ammalante può essere a livello della pelle quindi tutte le patologie cutanee dermatiti psoriasi eccetera eccetera acne e quant'altro possono colpire con l'osteoporosi e l'osteopenia eccetera eccetera il sistema nervoso centrale come abbiamo visto possono colpire il sistema endocrino tiroiditi il diabete mellito eccetera eccetera possono insomma andare veramente a pioggia tant'è vero che l'intestino essendo lì microbiota l'intestino è la parte più vulnerabile di tutte le patologie intestinali negli anni sono veramente aumentate tantissime quindi la domanda quali patologie può la risposta è il 90% delle patologie oggi conosciute hanno un ruolo una concausa da ricercarsi nella disbiosi intestinale questo è un dato molto molto importante un dato che ci deve far riflettere seriamente sull'alimentazione sugli interferenti endocrini ho visto che in fondo nel tuo libro tu hai messo tutte delle ricette quindi questi cibi fermentati sono un buon metodo per lavorare al nostro microbiota al piccolino adesso dobbiamo trattarlo bene indubbiamente ti vedo ti vedo fermo non lo vediamo è fermo si è bloccato adesso ci sei ti è bloccata sì 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 non ti abbiamo visto per un ah beh allora ok allora scusami dicevamo siamo nel periodo pre natalizio diciamo 23 giorni ci separano a Natale è vero che il periodo forse non è dei più favorevoli per vari motivi però insomma cene mica cene rinfreschi festini e quant'altro quindi si abusa un po' ci saranno i famigerati 15 giorni di feste natalizie che per molti sono una rovina assoluta pandoro panettoni di tutto di tutto di più ecco quindi questo è un periodo veramente di abusi bisogna stare davvero molto attenti perché basta poco basta 15 giorni non sono pochi però se 15 giorni ci diamo dentro tanto possiamo veramente farci del male sì farci del male quindi venendo alla tua domanda nel libro ci sono ho visto che ci sono tutte ricette in fondo ci sono le ricette che ha scritto la mia carissima amica Valentina Ferri in arte zucchina republic che è una lei è una food blogger vegana bisogna fare un passo indietro perché io tengo da da anni insomma dei corsi di fermentazione nel senso che non insegno io a fermentare ma insegno a Marco Fortunato che è un altro caro amico in un ambito di corsi che abbiamo chiamato molto fantasiosamente asse intestino cervello proprio per essere fantasiosi e quindi abbiamo ci siamo detti quando io ho avuto questa idea di scrivere il libro ho detto Marco non possiamo non parlare dei cibi fermentati nel libro perché ne abbiamo sempre parlato nella salute nell'ambito di salute nella salutogenesi e quindi ce li voglio mettere assolutamente anche perché gli alimenti fermentati così come il latte materno quello che dico ormai sempre proprio la mia tiritera il latte materno è l'unico alimento specie specifico esistente sulla faccia di questo pianeta l'unico i cibi fermentati sono effettivamente possiamo dire possiamo azzardarci a dire che sono gli unici alimenti funzionali veramente funzionali cosa intendiamo con un alimento funzionale un alimento in grado di modificare di intervenire più che modificare che a volte modificare non è una bella accezione però intervenire nella funzione dell'organismo perché l'alimento fermentato oltre a essere oltre a far parte della nostra cultura in maniera molto profonda perché c'è da sempre ci sono da sempre alimenti fermentati essendo alimenti predigeriti dai batteri che operano la fermentazione sono estremamente più semplici devono essere processati molto meno dal nostro apparato digerente quindi sono più leggeri facilmente digeribili facilmente assimilabili sono molto ricchi di sostanze metaboliche della fermentazione dei batteri i famosi metaboliti no? i grassi a corta catena i fermentati sono straricchi di queste sostanze fanno molto bene sono dei prebiotici scusate dei postbiotici enormemente importanti e quindi rientrano nel computo proprio degli alimenti fermentati degli alimenti funzionali tuttavia gli alimenti fermentati non è che siano diciamo la panacea di tutti i mali perché hanno anche loro qualche controindicazione come tutto che sono uno in caso di disbiosi severa ebbene non introdurle o assumerle veramente con il contagocce perché essendo dei postbiotici possono favorire ulteriormente la disbiosi possono far proliferare ulteriormente i batteri che già sono un po' impazziti e poi sono tendenzialmente molto ricchi di istamina gli alimenti fermentati quindi non vanno bene non vanno bene per chi ha problemi con l'istamina o per le allergie importanti o per chi ha la famosa intolleranza all'istamina quindi queste sono le due diciamo le due controindicazioni specifiche sulla base come si fa a sapere chi ha la disbiosi come si fa a sapere chi è disbiosi uno si accorge vero direi ah ok decisamente sì di solito sì diciamo che la maggior parte di noi la maggior parte delle persone proprio perché conduce una vita poco 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 sana nella maggior parte dei casi ha un quadro più o meno rilevante di disbiosi diciamo che la disbiosi dà tutta una serie di può essere transitoria o cronica se è transitoria a volte ti puoi avere mal di testa puoi avere quando digerisci un po' male quella volta che la pancia gonfia quella è disbiosi no che è transitoria perché per il resto delle tue giornate stai bene la pancia è regolare il transito intestinale è a posto stai bene la lingua è bella ricordiamo che la lingua è lo specchio dell'intestino lo specchio del fegato quando la lingua è brutta vuol dire che l'intestino e il fegato non stanno tanto bene e anche lo stomaco se invece tu hai dei problemi se la persona ha dei problemi intestinali tipo pancia che si gonfia sempre dopo mangiato difficoltà digestive la sonnolenza quella importante bravissima la sonnolenza post-prandiale è un segno di disbiosi non è normale no ecco insomma un po' magari un po' di abbiocchino ci può stare ma quegli abbiocchi veramente impegnativi non sono normali non sono normali le occhiaie le feci che sono costantemente sfatte o addirittura la stitichezza no o l'uno o l'altro o l'intestino alternante l'alvo alterno cosiddetto la lingua bianca la litosi i problemi della pelle e di disbiosi ok no quindi ce ne è per tutti i gusti insomma ce ne è veramente per tutti i gusti c'è sempre un po' di disbiosi c'è un po' di disbiosi che alberga in ognuno di noi bisogna poi poterla poterla fronteggiare nel miglior modo possibile e capirla insomma ecco perché scusami Francesca Marco quindi ci ha fornito questo meraviglioso capitolo che è il tredicesimo in cui spiega come fare i cibi fermentati e un po' la storia dei cibi fermentati e allora poi l'idea successiva che abbiamo poi elaborato e perfezionato in altri corsi è stata quella di dire ok sulla base degli alimenti fermentati no tipo il kefir tipo la kombucha il miso il tempeh quant'altro perché non creiamo delle ricette no delle ricette allora lì è venuta un po' l'idea e ci è piaciuto molto sono carine molto anche fare queste ricettine molto molto golose sono carine anche molto buone devo garantire che Valentina è proprio brava e quindi e quindi è andata così insomma io ho visto che ci sono tantissime domande siccome è già tardi cosa dici vuoi che ti rispondere a qualcuna come vuoi Francesca per me va bene se noi dimmi tu va bene dai prendiamone un paio le più quelle che per te sono le più rilevanti vediamo dopo aver visto l'altro l'altro giorno la registrazione dell'altro incontro oggi ho fatto ho prenotato un check up astrointestinale bravo io non le vedo ah questa sì sì ok è un'infezione urogenitale può derivare da un'infiammazione dell'intestino quindi problemi al microbiota sì assolutamente sì come abbiamo anzi le infezioni urogenitali sono proprio strettamente legate poi una donna Elena sì una donna quindi le infezioni urogenitali sono molto molto correlate a una problematica intestinale mi viene in mente la candida le cistiti ricorrenti assolutamente sì qui c'è una persona che chiede però non so se si riferisce agli alimenti fermentati cioè se sono adatti per chi soffre di RCU operata di colectomia totale rimozione del retto confezionamento di J pouch e ancora con infiammazione attiva talmente importante da avere unastomia credo se possa prendere scusami me la fai legge per chi soffre di RCU RCU è il retto colitucerosa operata di colectomia totale rimozione bla 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 però non riesco a capire la domanda pensavo che fosse per gli alimenti fermentati cioè se poteva mangiarli forse quello perché l'ha appena fatta quindi magari era forse per quello beh diciamo che la colectomia totale non è assolutamente una contundicazione all'utilizzo di cibi di alimenti fermentati su quello non c'è dubbio i pan colectomizzati perché qua mi pare di aver capito che lei ha fatto una colectomia totale quindi i pan colectomizzati possono in realtà mangiare a giorno d'oggi praticamente tutto possono avere un'alimentazione completa quindi gli alimenti fermentati non sono assolutamente un problema no lì dice scusate la domanda è se c'è un'indicazione terapeutica più indicata per spegnere l'infiammazione beh bisogna vedere non lo so insomma bisogna vedere il caso pensavo fosse una domanda aperta questo questo non entriamo nei casi specifici no qualche ruolo hanno i funghi nel microbiota intestinale però mi pare che beh i funghi i funghi tipo la candida perché la candida tra l'altro uscirà ho scritto un articolo che uscirà penso settimana prossima che parlo e parlerò proprio di candida la candida intestinale questo grande flagello no la candida intestinale che è un fungo che c'è in tutti i nostri intestini in tutti i nostri intestini c'è la candida che però normalmente è in forma di spora quando si attiva e diventa in forma di ifa diventa un po' un problema perché produce tutta una serie di sostanze che sono infiammatorie produce tutto uno straterello di muco su cui si prolifera no diventa un terreno di cultura per la candida stessa un terreno di cultura per i batteri patogeni e produce come dei tentacolini che si infilano nella mucosa intestinale determina lei si ancora e produce infiammazione e determina la leaky gut quindi i funghi sono estremamente importanti ci sono fanno parte del microbiota ma bisogna stare molto attenti che non vadano incontro a una proliferazione ed è molto comune la proliferazione della candida con una serie di quando ci sono una serie di condizioni uno l'abuso di antibiotici gli antibiotici andando a ridurre o alterare notevolmente la popolazione batterica creano idealmente diciamo dei buchi delle zone di vuoto dei batteri in queste zone di vuoto la candida prolifera alla grande perché trova spazio che nel nel nostro ecosistema intestinale i batteri hanno una grandissima un grandissimo ruolo che è quello di controllarsi a vicenda attraverso la produzione di batteriocine di sostanze in grado proprio di modulare e quindi la candida può proliferare l'altro elemento che favorisce la proliferazione della candida a livello intestinale quindi poi attraverso la traslocazione anche a livello vaginale per esempio è l'utilizzo diciamo un po' smodato di alimenti quali zuccheri quali lieviti prodotti da forno quindi lieviti sono la birra il vino bianco le focacce il pane e quant'altro tutto quello che è sovrabbondante di questi prodotti quindi quando noi vogliamo fare diciamo una lotta alla candida vogliamo debellare le candidosi più che altro dobbiamo eliminare non ridurre eliminare queste categorie alimentari per un periodo congoro quindi stop al vino stop agli aperitivi stop ai panini eccetera eccetera dobbiamo fare un'alimentazione un po' da monaco diciamo monaco che fa l'alimentazione da monaco poi dopodiché no perché mi è venuta in mente una cosa Francesca ti faccio sorridere perché anni fa sono andata a fare un ritiro in un monastero non faccio nomi però sono andata a fare un qualche giorno di meditazione ritiro in un monastero pensavo di fare una vita ovviamente monacale giù di birra no l'amarino dopo cena c'era sempre però non ti dico che pasti faceva cioè era un ristorante la meraviglia sono tornato a casa più più ciccionito di quando sono entrato va bene questa è una parentesi quindi per la candida e i farmaci ad esempio la pillola la pillola anticoncezionale è in grado di alterare dato che altera l'asse ormonale è in grado di influire molto sulla sulla diffusione della candida quindi i funghi insomma sono importanti fanno parte del nostro del microbiota quindi dell'ecosistema però possono essere anche ovviamente lo sappiamo fonte di malattia perché chi soffre di candidosi ricorrenti e quindi di candidosi vaginali bene non sta di certo e come cambia il microbiota intestinale nelle donne in menopausa un'altra domanda cambia? assolutamente sì il microbiota intestinale cambia in ogni stagione della nostra vita quindi il microbiota che noi abbiamo quando siamo dei bambini nella prima infanzia cambia già molto rispetto alla seconda infanzia rispetto all'adolescenza quando c'è diciamo il fiorire ormonale e cambia con tutte le stagioni della vita consideriamo che tutti gli eventi stressanti nel vero senso della parola cioè capaci di condizionare il alterare diciamo l'equilibrio sono in grado di cambiare il nostro microbiota un pasto diverso dal solito andiamo al ristorante mangiamo tanto o il cenone di natale per esempio crea determina sicuramente una disbiosi intestinale transitoria che durerà qualche ora meno male perché poi c'è il ritorno all'equilibrio ma eventi che continuano che perdurano determinano poi una disbiosi cronica la menopausa non è da meno la menopausa vede un'alterazione anche importante del sistema ormonale della donna e quindi un'alterazione del microbiota intestinale assolutamente sì nel corso della vita diminuiscono tantissimo gli actinobatteria i bifidobatteri fino ad arrivare nell'età della vecchiaia dove i bifidobatteri sono pochissimi e questo i bifidobatteri tra l'altro sono quei batteri che sono strettamente in correlazione col funzionamento del sistema immunitario sono tanto importanti quando siamo bambini nell'allattamento noi facciamo del feeding cioè del nutrimento ai bifidobatteri ma sono anche importanti negli anziani però negli anziani pian pianino si perdono allora possiamo reintegrarli attraverso uno l'alimentazione corretta due l'utilizzo ad esempio di specifici probiotici scusami sono anche correlati i bifidobatteri alla stitichezza quando mancano i bifidobatteri aumenta la stitichezza l'anziano infatti è tendenzialmente stitico e che ci sono degli esami che ci possono far capire il livello di disbiosi? ci sono degli esami che possono far capire il livello di disbiosi sì che sono gli esami partiamo da un livello di esami di primo livello insomma che sono esami classici l'emocromo l'infiammazione la vesla la PCR e altri esami molto diciamo entry level in un certo senso poi ci sono gli esami un pochino più più specifici che sono proprio quelli relativi ad esempio alla disbiosi intestinale si chiama disbiotest per esempio individuare il valore di scatolo indicano sono i prodotti di fermentazione di degradazione batterica un'alterazione di questi valori determina disbiosi fermentativa o putrefattiva poi bisogna collocarli e leggerli c'è la zonulina che è un esame importante che valuta la possibile tutto possibile non è che se hai quell'esame alterato è sicuramente quella cosa lì va poi interpretato la zonulina che può valutare la leaky gut syndrome poi la calprotectina l'infiammazione intestinale e poi esami ancora più specifici no quali ad esempio l'esame del microbiota intestinale che può essere fatto anche se con le dovute cautele perché gli esami del microbiota hanno avuto un grande diciamo un grande successo però è giusto anche che vengano un po' ridimensionati perché purtroppo sono davvero molto molto poco specifici in caso di disbiosi intestinale spesso vengono consigliati i fermenti lattici o probiotici sono utili i probiotici sono la cura per la una della una cura un elemento di cura importantissimo però bisogna poi dare il probiotico giusto e mirato sulla persona quindi dare probiotici così non ha nessun senso perché possono peggiorare la disbiosi bisogna fare un'anamnesi corretta valutare bene di quale problema stiamo parlando eventualmente fare gli esami specifici e poi dare il probiotico mirato normalmente io lavoro molto con i monoceppi ad esempio e quindi difficilmente do delle formulazioni ampie però insomma varia da caso a caso dall'età del paziente dal sesso eccetera eccetera dimmi tu se vuoi io ti faccio anche altre domande però beh allora facciamone ancora una e poi dove posso trovare beh la persona di prima forse chiedeva il tuo articolo sulla candida dove lo può trovare sul tuo blog immagino uscirà sul mio blog uscirà quindi non c'è ancora e a chi chiede settimana prossima eh sì questo questo webinar sarà sul nostro sito tra due giorni lo trovate quindi c'è la registrazione sarà sul sito per chi chiedeva di poterla rivedere certo beh sì sicuramente volevo far vedere una cosa se me lo permetti certo che è questa qua allora vediamo se riesco a fare una condivisione dello schermo solo un secondo sì sì che era questo qua che è si vede Francesca l'immagine del libro certo sì ok forse così si vede meglio sì ok benissimo che è appunto la copertina del libro quindi facciamo questa questa azione diciamo pubblicitaria sì infatti eccola lì guardate che c'è scritto di tutto qua dentro è illuminante è illuminante esatto congrattelo va bene io ti ringrazio molto Francesca di questa opportunità ringrazio beh ringraziamo tutti quanti quelli che sono beh ci sono tantissime domande ma non è anche tardi vero quindi penso che dovrai andare anche a riposare è interessantissimo lo sto leggendo quale probiotico per stipsi in menopausa è l'ultimo dai non possiamo perché in effetti adesso e sì poi lo so il medico poi vorrebbe aiutare tutti quanti ma non è possibile sì beh ma poi non è che la stipsi in menopausa sia diversa dalla stipsi in altre situazioni della vita voglio dire quindi quale probiotico rimaniamo sempre nel tema che bisogna fare l'anamnesi dei pazienti perché uno estitico magari mangia male magari non beve durante tutta la giornata insomma magari si muove pochissimo o brava o non cammina insomma bisogna valutare tante cose insomma bene allora io ti ringrazio intanto domani dovresti ricevere la prossima mail in cui vi preannunciamo anche che ci sarà appunto Stefano il 21 dicembre per fare questa meditazione che gli abbiamo chiesto durante l'ultimo webinar la prossima settimana ci sarà appunto un altro incontro di Filo d'Arianna con la dottoressa Chirico che ci parlerà di emozioni e di una lei è anche un'antropologa quindi ci parlerà di una visione antropologica delle emozioni e poi niente ringrazio tantissimo Stefano grazie mille grazie a voi grazie a tutti voi per la partecipazione ritrovate il webinar registrato sul nostro sito tra un paio di giorni un abbraccio grazie arrivederci allora al 21 ciao buonanotte al 21 dicembre ciao buonanotte ciao ciao buonanotte